Dal momento che questa spiaggia era stata identificata, ma solo con il libero accesso, senza nessun controllo, ho chiesto l'autorizzazione. Adesso, arrivando da Giulianova, prevalentemente saranno garantiti i weekend. È possibile che anche durante la settimana riesca a essere presente, grazie anche ai volontari della mia associazione, garantiremo dal punto di vista igienico-sanitario il rispetto di un regolamento. Spesso i proprietari portano i cani liberi, senza rendersi conto che potrebbero tra di loro non andare d'accordo. Quindi la nostra presenza è intesa a voler dare una maggior sicurezza alla spiaggia, e anche a dare un'educazione, a sensibilizzare le persone a poter gestire bene il rapporto tra il cane e l'uomo, il proprietario, e anche tra cani. Noi oggi siamo qui, siamo stati chiamati dall'organizzatrice per questa apertura di questa spiaggia, che si chiama Unica Beach, per fare una dimostrazione sia di ubbidienza a terra e sia di esercitazione in acqua. Simuleremo qualche situazione che potrà avvenire durante il periodo estivo, perché noi lavoriamo principalmente sulle spiagge libere, siamo tutti volontari di protezione civile, quindi vedrete delle situazioni che possono avvenire. Siamo presenti anche per poter aiutare chi per la prima volta porta il cane, prima infatti ho avuto una signora che si è fermata a parlare per chiedere se il proprio cane poteva venire al mare, gli piacerebbe portarlo, è un pastore abruzzese di un paio d'anni ed è la prima volta che viene al mare, quindi mi ha chiesto di poterla seguire quando verrà.